Venite qua sotto, venite qua sotto un attimo, ciao! È un'opera di street art. La street art è l'arte che viene fatta sui muri dei palazzi o sui muri delle città. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato questi street artist, che sono tra i più importanti di tutta Milano, che sono conosciuti anche in tutto il mondo, si chiamano Ortica Noodles. E' importante, non importa che tipo di arte fai. Allora, vediamo, vediamo se qualcuno sa dov'è. Questo si chiama Jimi Hendrix. Ah, sì, l'ho già sentito. La parola proprio disc jockey nasce dal giocare con i dischi. E quindi il disc jockey cosa faceva? Giocava con i dischi facendo ballare le persone. Ma se voi contate, la musica ha delle regole matematiche abbastanza precise. E' una marcettina. Vai, battete le mani, fatemi vedere. Sentiamo. Ciao, 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 mari! Il piccolo grande JJ. Forza! Ci vediamo dopo! Ci vediamo dopo ragazzi, allora. Vi chiedo di disegnare che cosa vi ha, non so, cosa vi ha fatto provare la musica che avete sentito. Li ricordo le canzoni, mi avevano detto. Fatti, speravo. Allora, ciao a tutti! Siamoci! Non c'eva una tela, Bianca, con un bravo ci ricambiamo, e le sape del tuo amore, è un ricordo mai lontano, ma il bianco si sbraiava, si bruciava.